E' chi no, quando lo bundini non ci sta registrando Guarda che lo bundini non ci sta registrando Guarda adesso, devi già registrando guarda già lui ci sto facendo la ripresa la ripresa Oh che onto è Mamma mia che onto Ma vado a riprendere con l'immagine più bella 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 Ma vado a riprendere con l'immagine più bella